Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io oggi giocherò con qualcosa di particolare La langwa Allora vedrete da una parte la fotocamera Cioè qui Poi vedrete il microfono Poi vedrete lo schermo che già è ripresa Quindi siamo su Acqua internazionale Oddio uccisione confermata con la lingua Come faccio a giocare a uccisione confermata con la lingua Non lo so nemmeno io Allora proviamo Iniziamo 3, 2, 1 Dai Quanto ci vuole Dai che voglio giocare Dai Allora Invio Ok ci sono con l'invio Andiamo via Non so dove devo andare sinceramente Perché non vedo niente Oddio No Camperone Camperone Guardate Ma io non Ma a parte che non so che Ma io A me sta gente Mi è un po' da menarla Perché se la camperano Guarda Guarda quello Guarda quello Guarda Guarda Ma ammazza No ecco Ricarica Guarda Ricarica Doveva essere l'R Per fortuna che è una tessera molto mobile Molto morbida Che quindi mi permette di giocare Di giocare Premendo Oddio mi sa che sta arrivando qua Oddio non vedo niente Che è sto missile? Oh 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 Che succede? Guardate qua Venuti tutti incrociati Eccoci Il solito Il solito camperone Non è possibile Ma dai Che palle Andiamo Dai Dai Madonna santa Ma non è Crepa Crepa No Me l'ha fregata Me l'ha fregata Schifoso Ricarica Ricarica Guardalo 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 Ma guarda Guarda Che camper Che camper Che camper Schifo No 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 Perché Cioè Arrivai Madonna In pieno proprio In pieno mi ha beccato In pieno No Dov'era Dov'era Il dragonfire Ma te lo spacchi Te lo rompi Te lo ingoi Sto dragonfire Del cavolo Eccolo Eccolo Guardate Madonna ragazzi Ma sei schifoso Ma non ti vergogni Ma non è possibile Guarda E' lì E' nella piscina No aspetta E' nella piscina Non posso usare la tastiera Ma non è la piscinetta Madonna Come si fa Ma che schifo Di camper Guarda là Guarda come se la camperano Guarda Guarda Mi viene da piangere Però Madonna Guarda E non more Non more Guardalo Guardalo Che schifo Che infame proprio Dov'è Dov'è che sono figli Non so nemmeno Crepa Ma ton pal Ma ton pal 9 9 Ma vai Ma 1900 Poverino Poverino Fu a 12 anni Non ti vergogni Dov'è C'è qualcuno Mi sa qua Oddio No No Chi è stato Ma perché 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 Dov'è che sei Dov'è che sei Sì Sì No Mi hanno fregato No Non è possibile Mi frego le target Ma te ne vai a morire Crepa Vigitalia news Ma vai a morire Morire proprio Mori 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 Schifoso Ah vediamo Dov'è Ok Bella campero E l'unica soluzione è campero Aspetta Oddio Oddio Ma com'è che non muoiono Però Guarda Guardalo Guardalo Ma cosa fa Camperone Schifoso Sì Campioni del mondo No Non ci credo Non ci credo Ma sempre te Ma sei sempre in mezzo Ma fatti una vita Ma potete urlo Fatti una vita Ma per favore Giochiamo Vai via Allora aspetta Dov'è che sono Per favore Ma perché Giriamo Giriamo Oddio mi stompe Oddio aspetta Oddio Ma non è No guarda Guarda questi Guarda questi Cioè io Io non Mi uccino sempre Io non ne posso più Ma fanno schifo Ma non vi vergognate Quello del 1999 Ma togli No Di nuovo Di nuovo Ma che armi sono poi Ma quello del 1999 Toglili il computer Gentilmente Toglililo Di nuovo Aiutium Ma sei del Vietnam Te ne vai via dal Vietnam Gentilmente Dov'è che sei Dov'è che sei Ora t'ammazzo Aiutium Del cavolo Ho visto qualcuno Andava di là Ora sparo Come dio in terra Sparo Guarda Guarda Ricarica Dai Veloce Ok Ok ora mi ammazzo Intanto sto Vedo già arriva Eccolo Eccolo Ecco Aiutium Eccolo Scaccolo Matteo Ora aspetta che ora Arriverà un altro Campione Ricarica Dai ricarica Ricarica Vediamo Dai Dai Com'è che no Vabbè andiamo Dai Non capisco Da che parte Devo andare Perché qui Sono tutti Dei camperoni Schifosi Peggio Di Dei vietnamiti Aspetta Dalla campero Lo so che ora Ora è col K40 F No F F No Ok ce l'ho Ce l'ho Dov'è Dov'è Kroosys No No L'uccisione finale Me l'ha fatta Sto Sto schifo Sto mostro Brubioso Ma da dove vieni Guardiamolo Guardiamolo Guarda Guarda qua Tutto Tutto ganso E se la tira tu Guarda qua Guarda lì Guarda lì Sei un infame Schifoso 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 Beh ragazzi Con 4 Uccisioni Con la lingua E 17 morti E 0 Confermate Perché me l'hanno rubate E tutto Ciao a tutti Grazie a tutti